Sexy quella capretta vero? Non stavo vedendo perchè sto scrivendo Eh PIRATE COVE Non mi dire che dobbiamo interrare dentro i cannoni perchè se entriamo dentro i cannoni questa mappa da 1 a 10 passa la mia preferita Allora Ok Yarr Ar Non è yarr È la yarris Dov'hai scena? Eh sono già volato fuori La facciamo così E sono rivolato fuori Ah eccolo dov'è la Ah Ce l'ho fatta Madonna dove sono andato fuori Ce ne sono andato completamente fuori Quanti stai tu? Double boogie Quattro quindi E Dio merda Cove Allora 2 e 1 sputo C'era la frega No vabbè No vabbè No vabbè Vabbè Discutiamone Quella che è andata È stata quella per entrambi eh No 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 Ciao Vaffanculo Vaffanculo Ok No 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 Shade Oh Rimbalzo della vita Quanto bisogna fare? È una mappa difficile È una mappa difficile No Frena 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 Questo è un autostark veloce Questo è difficile Vado a fare 2 e Vado a fare 2 e Si Io faccio 2 preciso 2 preciso No dai No dai Va bene Shade Guarda Perdonami ma veramente quitterei adesso io in questo momento E mo che cazzo si fa qua? Vedo delle cose che girano Ha quasi tutta potenza La regola vuole quello Ah è laggiù la bandiera Porca Porca Shade A me è ributtato indietro Oh mio dio cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ma basta ma non va Non c'è un buco in mezzo Ah si c'è un buco in mezzo Si si ci sta ci sta voglia te Madonna quanto mi sono caccato Guarda ma che culo di merda c'hai? Dai che culo di merda Dai Della mia visuale tu eri per te Era dentro l'acqua Si ma ho fatto due tiri più di te Culo Adesso a sinistra decidiamoci intanto Il piranha scusami Che tu vedi? Ah ma è un pesce rosso con attaccato una Una cosa da Da squalo se noti eh Esatto Oh mio dio Perché Perché sono un idiota? Oh Oh ferma sempre Aaaaaa No 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 Guarda No No io ho quitto Io ho quitto Dai no Io ti giuro ho quitto Cioè discutiamone Io vorrei il tuo Vorrei sapere di che cosa ti fai tu per avere questa botta di hula proprio Cioè Sono imbattaggi di una eh tra l'altro Cioè io non ho parole Allora questo si fa così No Perché non fa che tiro forte No così non si va No Devi andare piano e poi rimbalzare la su quel blocco forse No come non detto Come proprio non detto Ok bisogna andare Ok no qua bisogna andare piano piano Ok sì Basta andare giù Per di qua piano Ah qua c'è la buca aiutata Cioè che se vai qua Porco non ci voglio credere Ok buca E' difficile sta Molto difficile Mmm Impegnativa Bisogna E' raro trovare un All in one Co Come? Così Ok Se va 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 bene Dove sei finito? Guarda dove sto No sul tetto sto Ma come sei arrivato da sopra? Qua è impossibile così ricadere giusto Ma come sei arrivato da davanti giusto? No guarda seriamente Beh direi che anche io me lo merito ogni tanto Sì ma come sei arrivato? Eh ma sai che spiri forte Eh sopra o sotto? Io vado sotto Oh mio dio Oh mio dio l'all in one L'all in one Questa che buca è? Non lo so Questa si può fare in uno Questo si può tranquillamente fare in all in one Questa Io l'ho andato sotto Ehm Questa? Io la tiro piano Io la tiro piano Io la tiro piano Sono finito in acqua Questa la devi Non è che la devi lanciare piano di più Devi appoggiarla Non ci credo sono rimasto sul bordino No Allora Così No troppo 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 Allora questo si può fare in all in one da qua Ehm Ma Ma ho preso uno Ma ho preso uno Un spigolo io Ma baffanculo Che non so ancora come faccio i siti sopra eh Che sto facendo delle caffole Eh tutta potenza ciao Sono tornato alla parte Sono tornato al punto di partenza Io cosa ho fatto non lo so eh Non te lo so dire Sono tornato al punto di partenza Scutiamone Ehm Non vedo Ciao Ma no Dove sei andato? La spiaggia volevo farmi uno shortino Questa Noo Se tu la tiravi tutta forte Andavi in buca per il primo colpo E che cazzo ne sapevo Ma tu sei serio? Questo è quello che ti vede Dove è finito il mio culo? Culo? Hai fatto due tu Pene Ehm Va bene Va bene Non piangere Ma dov'è la buca? E' tutta in fondo Ok Non la tira troppo forte Ha fatto tutta la palla E io non ho toccato niente Birdie Due tiri Io in tre Oh mio dio La precisione della vita Io ovviamente Destra o sinistra Destra o sinistra Destra o sinistra Porca puttana C'è pure un'altra reazione Ah no! No no non c'è la scelta Va bene tutte e due Io c'ho la visuale che mi sta tipo Tremando Lì sotto Ma tu sei serio? Casa mia è tranquillamente a disposizione Ovviamente io dovrò andare a lavorare In Guarda adesso non so ancora bene che non mi lavorerò Comunque Ripeto Cambiando la torre Devo vedere tutto quanto Però dal prima di novembre Stanno di là Nell'altro posto E Dopo Definirò Oh Grazie Comunque casa è libera Questa è casa mia Terzo piano Ci sto I I cannoni Vado al cannone Mi ha sparato male il cannone Mi ha sparato male il cannone Ma il cannone mi spara in acqua Forse il cannone è sbagliato No no è quello che sei entrato tu Poi se sono entrato e non mi ha sparato Non mi spara il cannone a me Guarda Ma perché? Devi dargli potere Ma no Ma no Devi avere la coperta aperta Deve avere il coperchio aperto Guarda il coperchio aperto Sparo No tu eri Io ho visto il coperchio chiuso Adesso dimmi quando è aperto Aperto Vado Mi butta di giù Forse forse è piano Devo adirizzare Quando è aperto tutta massima potenza Fatto Fatto Cosa? Ho sparato tutta potenza e mi ha buttato in acqua Madonna ste mappe bugate Oh mio dio C'è l'acquetta C'è una figa bagnata Eh vabbè 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 questa scena sarà tosta eh Troppo? Tanto? Sì Quanto tosta Porca Sei bugato? Eh Magari Ma porco Sì ma dai Ma non è possibile Che pensa quella lì che vedo le rampe salire e scendere Ma sì ma vaffanculo allora Io ho perso tutto il mio culo nelle prime buco L'ho giocato tutto lì L'ho finito Dove siamo? Io vado di qua Allora Oh mio dio Oh mio dio Aiuto cado Aiuto cado Cado Oh mio dio No cos'è sta roba Che tempismo devo avere Oddio Si può fare in uno questo No Sì ma non ci credo che sono così sfigato Ciao Gianfi Pluff Puff 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 Anche a me è successo un attimo fa eh Paffanculo va Sovunque a 70 Devo andare a un out of stroke per poter perdere Ehm Se fai tutta potenza Non risolve un cazzo Ehm Puff 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 ma ma qualcosa non è andato come dove andare in sé ma quelle cose laterali non lo so e non mi importa praticamente buca assistita tranquillo io sono riuscito ad andare nella buca di sinistra poi io non ci credo della mia botta di cos'è quella cosa cos'è questo coso cos'è quello proprio lì tendi l'octopus no fatto in tre tiri io ho sbagliato io tipo ho lanciato bene poi mio dio adesso l'ho visto bene dal tuo visuale cos'è qualcosa qualcosa lì è l'ultima buca messa comunque rimane sempre abbastanza facile ok devo fare potenza tutti e tre massima potenza ma si vola martinga temi che mi hai visto ti prego peccato l'unico angolino dimmi che a me non mi ha preso veramente un tentacolo e mi ha mandato a puttane io sono ancora all'inizio se te lo stai chiedendo oh mio ti sono andato fuori dalla mappa io con quei tentacoli oh dio sto tentacolo di merda ti ho detto che ti prendono ma mi mi lancia via mi lancia cos'è cos'è sta mappa non ha senso guarda che volo via porca miseria come si fa oh oddio oddio non cadere in acqua gerluca non cadere in acqua sì vabbè tu sei già arrivato là ce l'ho fatta io mi non bolla mi ambo con una tensione ce la rimonta Un maror Non so come hai fatto evitare i tentacoli BDC Non ci credo Non ci credo Per uno Non ci credo Non ci credo No questa mappa non sarà fattibile per la buca 18 Te lo dico